Seconda gara e campionato Formula One Series, la categoria dei modelli elettrici con livree di Formula 1 e Super Touring. In questa seconda gara iniziamo a scoprire la tecnica delle vetture e come si guida. Sulla tecnica, oggi cosa vediamo? Oggi vediamo come funziona la radio di un modello Super Touring. Accendiamo la radio, successivamente il modello. Questa è una radio a stick con queste due levette per il comando dell'acceleratore del freno dello sterzo. Questo è appunto l'acceleratore e questo è il freno. Poi il servocomando dello sterzo azionato appunto dalla radio ci permette di fare le curve. Le radio in questi ultimi anni hanno subito delle variazioni. Non ci sono più i classici quarsi che definiscono la frequenza del modello, ma utilizzano un sistema in 2,4 GHz che automaticamente si setta sul modello e è impossibile che interferisca con gli altri ragazzi in pista. Iniziamo a scoprire la tecnica delle variezioni. Non ci sono più i classici